ciao amici del gruppo filamento creality hyper series filamento votato per l'alta velocità un pla che secondo quando richiede dichiara la casa costruttrice dovrebbe arrivare fino a 600 mm secondo di stampa piccola postilla nessuna stampante arriva quelle velocità in stampe tipo queste cioè le distanze sono troppo piccole perché la stampante riesca effettivamente a sviluppare 600 mm secondo 400 300 mm secondo per cui questa stampante che è un anni cubic cobra 2 pro sostanzialmente una stampante molto veloce infatti ho stampato con lo slicer di default a 300 mm secondo queste statuette in effetti sono state stampate molto velocemente perché ci hanno messo solo un paio d'ore al posto del 6 7 che avrebbe impiegato con una normale stampante ma come spiegavo prima le distanze sono troppo piccole solo in certi punti riusciva a prendere qualcosa che potesse assomigliare i 300 mm secondo in questo caso ad esempio il filamento non è mai stato messo in crisi perché appunto non siamo arrivati ai limiti testandola veramente verso i 300 mm secondo ho fatto praticamente una diagonale ho fatto questa forma l'ho messa sulla diagonale sono all'incirca 23 24 centimetri qua veramente si raggiungono i 300 mm secondo e le prove sono state un po deludenti nel senso che 210 mm scusate 210 gradi proprio non riusciva a estrudere a 215 gradi ha cominciato a andar bene ma andava a 150 mm secondo quando l'ho lanciata a 300 cominciava a sfilacciare stessa cosa ovviamente un PLA della concorrenza sempre votato le altre velocità e allora mi sono accorto che questo PLA sì che è un ottimo PLA per le alte velocità non so se arriva effettivamente ai 400 500 600 perché non ho né una stampante che possa effettivamente arrivarci né un estrusore che abbia un flottale da esprimermi 600 minuti del secondo prossimamente probabilmente avrò delle macchine più prestanti e potremmo arrivarci effettivamente comunque sia il PLA della concorrenza sia il PLA della marca Creality Hyper Series è stato portato a 300 mm secondo con ottimi risultati fino lì ma a temperature molto più alte che dichiarate da indicazioni c'è scritto 190 230 in realtà ho cominciato a stampare bene dai 240 gradi in su a 240 gradi la stampa vedete che è abbastanza lucida per cui vuol dire che la temperatura è ottimale appunto per lucere PLA appena mi sono alzato ai 300 mm secondo con 240 gradi già diventava opaco mi sono alzato i 250 ancora resta opaco presumo presumo che per andare dai 300 gradi in su qua occorrono per ottenere dei buoni risultati sia di lucidatura del pezzo sia di proprio flow di scorrevolezza per non avere sottoestrusione dai 250 ai 260 gradi per cui faccio un esempio e qua vedete di 20 30 prove che ho fatto le più significative perché ho fatto delle prove sempre a 150 300 mm secondo alzandomi pian piano in temperatura sotto i 220 gradi non proprio non riusciva a distrudermi quando andavo a 300 minuti al secondo facevo una sottoestrusione tale appunto da non riuscire a finire il test allora conclusione di questo tipo di filamento ne vale la pena spendere dei soldi in più perché costano leggermente di più rispetto i normali PLA sì perché io con il normale PLA comunque anche alzando di temperatura ho sempre avuto stampe peggiori di questo tipo di PLA fatto per le alte velocità però prima cosa non ho macchine che arrivino 600 mm secondo seconda cosa bisogna giocare moltissimo moltissimo sulle temperature perché qua mi sono spinto fino a 250 gradi come dicevo e per me si poteva azzaltare altri 10 gradi più per cui facciamo l'esempio classico di una stampa dove questo busto è 10 volte più grande per cui c'è una base molto molto grande quasi grande come tutto questo piatto però dopo ho bisogno ad esempio come in questo caso di particolari che non si sciolgano per la temperatura alta allora lì consiglio appunto per far esprimere questo tipo di PLA ad alta velocità proprio alle massime velocità possibili di giocare con i modificatori non tanto con le velocità ma con le temperature cioè se c'è una base molto ampia dove praticamente l'estrusore riesca a correre e far esprimere in flow in velocità veramente il filamento allora lì ci possiamo spingere per esempio se questa fosse una base grande come questa questo bed possiamo alzare le temperature in questo punto col modificatore fino anche a 260 gradi dopo senza calare senza toccare le velocità continuiamo a far salire la stampante per la velocità che riesce a esprimere ma abbassiamo la temperatura in modo che anche i dettagli non si sciolgano non vengano pessimi per cui volete macchine performanti per me un consiglio dovete usare anche filamenti performanti però anche col filamento performante non fa tutto da solo il il filamento performante a seconda che sia di una marca di un colore o di un'altra marca di un altro colore purtroppo dovrete giocare con le temperature lui si comporta sicuramente meglio di un PLA normale ma anche qua bisogna cominciare a giocare appunto sullo slicer per ottenere delle ottime stampe benissimo questa recessione per me è finita nel senso che avendo operato più di metà bobina ho visto che è un ottimo prodotto che è sicuramente meglio se usato ad alta velocità anche a bassa velocità funziona benissimo ma appunto un filamento normale non riuscirebbe ad arrivare a dove arriva questo ho proprio notato la differenza tramite tutti questi test di velocità sui 23-25 cm che mi permettono veramente di esprimere la macchina alla massima velocità e accelerazione mi sembra che siano 20.000 mm al secondo di accelerazione per 300 mm al secondo di velocità e passando dai 300 ai 400 hanno ceduto praticamente tutti quanti comunque ottimo ottimo PLA ve lo consiglio le stampe sono veramente eccezionali molto particolarizzate ho notato anche una cosa se debitamente raffreddato i supporti vengono via senza lasciare nessun tipo di cicatrice per cui sicuramente un punto a favore della tipologia dei PLA e ultimo ultimo consiglio giocate con le temperature riuscirete ad ottenere sia delle velocità alte sia degli ottimi dettagli ciao a tutti quanti